Allora, mister Scorsini, squadra attentista nella prima mezz'ora e al primo tentativo è arrivata da questa letta del vantaggio e poi nel secondo tempo avete controllato tranquillamente. Innanzitutto buonasera. Sapevamo che era una partita molto complicata, avevamo grande rispetto del Tolentino, sapevamo che aveva portato dei cambiamenti già col mercato dicembrino. Noi è chiaro che siamo arrivati a questa gara cercando di recuperare i tanti acciaccati che avevamo e non avevano potuto giocare domenica scorsa. Avevamo preparato la partita in un certo modo, sapevo benissimo che un po' per caratteristiche del Tolentino, un po' per il campo che veramente era una risaia, oggi è stata veramente una battaglia. E faccio i complimenti a tutti i 22 che sono scesi in campo. È chiaro che la qualità della mia squadra e l'attenzione e soprattutto la sagacia tattica di questa squadra ci sta facendo fare un campionato al di sopra delle aspettative. Noi siamo partiti per salvarci, 22 punti sono tanti, sono importanti. Eravamo molto dispiaciuti dalle ultime due gare in casa, perché quella col Fanno non la voglio nemmeno mettere come gara persa. Però nelle ultime due gare persa con il Matese e col Bastogirardi c'avevamo tanto amare in bocca. Noi siamo una squadra, la vogliamo classificare, una delle squadre che ha fatto più punti in trasferta. Questa è la quarta vittoria che facciamo in trasferta. Sicuramente abbiamo delle caratteristiche. E soprattutto la coppia d'attacco. E soprattutto abbiamo delle caratteristiche in un certo modo dove se ci lasci spazio, se ci dai campo e se ci permetti di fare una partita molto compatta dove siamo molto attenti e abbiamo poi gamba per ripartire, la mia squadra fa male. Quindi dicevamo appunto una squadra che ha fatto più punti fuori casa e ora bisognerà fare un attimino la quadra del cerchio per trovare anche qualche punto lì in casa. Sì, io sono molto contento per i ragazzi perché devo essere sincero, è un po' incredibile. Quando una squadra parte per salvarsi di solito in casa ha il proprio fortino e noi invece il nostro fortino ce lo facciamo, ce lo siamo fatti in trasferta. Quindi sicuramente è un po' perché abbiamo caratteristiche specifiche, quindi fuori casa noi molte squadre ci mettono a proprio agio. Un po' perché chiaramente ci rimane un po' di dispiacere per i nostri tifosi perché vogliamo prima possibile dargli una gioia anche in casa perché ce lo meritiamo tutti e ce lo meritano anche i nostri tifosi. Grazie a voi. Grazie a voi. Buon Natale. Buone feste. Allora, mister Mattoni, una gara in cui il Tolentino ha controllato bene la prima mezz'ora, poi la prima disattenzione è arrivato il gol. Sì, avevamo di fronte una squadra, una forte squadra, siamo stati bravi a contenerli, a rischiare anche poco. Io ho visto una squadra in crescita, c'era ammarico perché specialmente nel secondo tempo siamo stati sempre dentro la metà campo loro, però siamo penalizzati ancora dagli episodi, ma io devo essere estremamente fiducioso. Al di là del risultato che è un normale, che è quello che conta, io devo essere, come dicevo, ottimista perché si sta cambiando qualcosa, arriverà qualcosa e già oggi credo che i nuovi innesti hanno portato una ventata diversa, non è abbassata ancora, ma come atteggiamento, come non vi posso rimproverare nulla ai ragazzi, ovviamente paghiamo a caro prezzo ogni piccola disattenzione. È arrivata questa nuova sconfitta stagionale, per quanto riguarda il mercato, quest'oggi tre nuovi arrivi, ma in settimana probabilmente ci sarà qualcos'altro. Certo, assolutamente, assolutamente. Abbiamo voglia, noi abbiamo dato l'opportunità a tutti. Io mi trovo anche onestamente in difficoltà perché io sono un uomo del Tolentino, sono di Tolentino, e io assolutamente l'otterò fino alla fine, sono quasi emozionato perché Merode ha avvenenato, lo so. E chi vestirà la maglia a Cremesi deve avere l'emozione mia. E sono convinto che chi arriverà con il lavoro alla società, noi ne verremo fuori. Grazie mister. Grazie a voi.